...perché c'è più libertà di ragazzi tutti in città, quindi adesso abbiamo bloccato questo canale. Questi signori, quindi accoglienza nella legalità, sono tutti di area nord-abitana, abitana, Sene, Calgambia, Nigeria, Guinea, Marocco, Egitto, Nigeria, Tunisia, la maggior parte di essi irregolari, sia perché non censiti e sia perché non aventi le condizioni di asilo, e quindi le voci di polizia hanno fatto il buono lavoro, ma chiaramente, come dire, quando a volte accade, in Europa, in Italia in particolare, apprezzo la linea governativa del pacchetto, e poi del tipo, come avete voi, è semplice, come dire, no? Discuto di accoglienza, ma l'accoglienza va programmata, orientata e va svolta in sicurezza. Ecco, qui la protezione del Stato interno ha fatto prevenzione e noi le pressioni, perché non contete la prevenzione, ma la protezione della protezione del Stato abbia raccolto due obiettivi. La coivenza è nella virtuale realtà. Dispiace constatare che i fornitori di droga di tutte le qualità, droga, hash, cocaina, manuoro, Grazie.